Il Vettore Il Vettore il missile punta verso la costa orientale Perderemo la casa bianca L'abbiamo ricostruita in passato Lo faremo ancora E le perdite? Si stima tra 30 e 50 mila A seconda del punto esatto dell'impatto Tutti i sistemi saranno disattivati Generale Shepard ci avevate avvertito dovevamo darvi ascolto Quando si parlerà di questo Noi non saremo quelli che hanno assistito la fine degli Stati Uniti Il responsabile di tutto questo è uno solo Il mondo deve sapere di Makarov Chiedeteci qualsiasi cosa generale Non battate a spese Chiedeteci qualsiasi cosa generale Chiedeteci qualsiasi cosa generale Ultimo caricatore Ultimo caricatore Usalo bene Vedifica punizione A questo Non è in coppia Ultimo caricatore Tre colpi rimasti Non è arrivato 80 metri Preso Preso Caporale Presi Prendete la posizione Sat 1 Qui sono a comandi gli SS Houston richiede l'accesso alla microcamera sull'elmetto Passo Sat 1 Segui il contatto Stiamo esaminando Rimani in attesa Houston oggi non è previsto alcun lancio satellitare, vero? GSS qui Houston Attendete Forse abbiamo un problema Houston qui sono a comandi gli SS Sapete qualcosa su... GSS qui Houston Come succede? Andate alla strada, via! Qui si mette male! Non perdere di corrette! È morto! Via, via, via! Non c'è la strada, via! Oh, cazzo! Andate a correre! La pettina! Via, via! È finita! Forza, c'è una guerra da combattere! Cos'è successo? È tutto così, tranquillo! Il mirino laser non funziona! E anche il mio! Che strano! Pare che i dispositivi ottici non funzionino! Nemmeno la radio! E non c'è neanche un lampione acceso! Guardate che roba! Avete sentito? Andiamo! A te! Via! Via libera! Ti copro! Ricevo caldo! Va! Vieni! 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 Ne abbiamo uno! Ne hai cominciò di Aetra! Vieni! Vieni! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.